Ciao a tutti ragazzi, qui Frost e bentornati in un nuovo piccolo video. Perdonatemi un attimo il contesto un po' confusionario e magari la mia gimmick, però sono ancora in vacanza, sono ancora tranquillo, impigiamato e pasciato e quindi oggi sono qua ragazzi per darvi un felice inizio di anno, diciamo così, ma soprattutto per dirvi una cosina. Ho detto oggi è il primo dell'anno del 2017, sì, vorrà dire che la gente, gli iscritti che appunto l'anno scorso si sono stati così tanto vicini alla nostra famiglia e hanno visto crescere il canale, di sicuro non riusciranno ad aspettare domani per la live del lunedì. Quindi ragazzi vi voglio appunto annunciare che questa sera sarà presente una live sul canale di Brains & Games Ita, ragazzi, della solita durata, quindi dalle otto e mezza alle undici e mezza, dove appunto porteremo, sentite un po'? Esatto, nuovo anno, nuovo inizio, nuovo inizio con Rainbow, quindi ragazzi stasera live su Rainbow, dalle otto e mezza alle undici e mezza, assieme al Frost, all'Elly, al Max Straz Revenge, al Freccia e adesso vedremo chi si potrà unire. Quindi ragazzi, spero che la cosa vi faccia piacere, noi ci becchiamo stasera, vi rinnovo i miei saluti, i miei auguri e buon proseguimento di giornata. Ciao ragazzi!